Ciao! Allora, ci sono delle novità e quando uno ha delle novità non vede l'ora di farlo sapere a tutti, io sono tra questi. Dunque, innanzitutto saluto la mia mamma che ha avuto dei problemi di salute, però nelle ultime analisi del sangue sono andate bene, quindi la mia mamma continua a lottare. Poi ci sono delle altre novità perché sembra, anzi sono sicura, che questa settimana, se sono ancora viva, andrò a fare un appuntamento, andrò ad avere un appuntamento con un simpatico ufficio che gestisce l'House Building. Quindi, saprò di più e riceverò maggiori informazioni perché finora ho fatto dei colloqui ma molto generali e quindi a questo punto ci sarà la camera dell'artigianato che parlerà con me e mi aiuterà ulteriormente. Nella mail è stata anche molto gentile, mi ha dato anche degli indirizzi internet ulteriori per avere notizie. Quindi giovedì ho l'appuntamento e vediamo un po' come andrà. Se avrò tempo vi farò sapere subito, altrimenti vi farò sapere più avanti, ma sono abbastanza tranquilla come potete vedere e niente, andrò un po' a informarmi. È vero che c'è tempo perché comunque sia il progetto mio partirebbe a settembre 2019, però su queste cose io sono un po' pessimista, nel senso che imparare il tedesco non è così facile, non almeno a livello avanzato. E quindi sembra molto tempo, ma in realtà io non lo so se sia davvero molto tempo, cioè comunque sia ci saranno dei mesi in cui dovrò ancora studiare parecchio. E' vero che ho già l'esame B2 passato, quindi un certificato ce l'ho, bisogna vedere se è abbastanza. Se non fosse abbastanza dovrò fare esame ulteriore, se è abbastanza comunque io vado avanti a studiare tedesco per preparazione, diciamo, generale, perché comunque dovrò avere a che fare con il linguaggio tecnico. E vediamo. Inoltre, per qualche settimana avrò anche un corso di informatica sul linguaggio Python. Vediamo come andrà, sono un po' curiosa, un po' spaventata, però è interessante perché su questo linguaggio si fonda Blender, quindi imparando un po' di questo linguaggio potrò anche forse usare meglio Blender. Se ci sono dei problemi con Blender, risolverli magari in un altro modo, il che si fa veramente interessante. Grazie a tutti per l'ascolto, un bacione dall'Ale.